A me è successo ad alzare un paio di coppettine, come le chiamate voi, via dicendo, e nel momento che le alzi ti sembra che inizi una nuova vita, che ci sia tutta una cosa nuova che ti riguarda, ti senti più autostima, ti senti più forte, ti senti più sicuro, ti senti più. E la Roma ha necessità, ha bisogno di vincere, non per il gusto della vittoria nostra e per quello che è il tirar sulla coppa, ma proprio per la sua gente, per il movimento di affetto e di sentimento che ha in tutte le persone. La Roma deve capitalizzare ogni momento della sua esistenza. Cioè la Roma, è difficile poi trovare, anche per dirlo a giocatori, ma non deve pensare a una bacheca, ma deve pensare a un movimento continuo, a un movimento continuo che si autoalimenta, cioè questo allenamento fatto bene perché domani rifaccio bene anche l'altro e probabilmente lo faccio meglio. Questa vittoria, perché? Perché ti dà autostima e ti fa venire poi quella sensazione che puoi rivincere anche quella successiva. Questo contrasto, perché poi mi sento più forte in quell'altro contrasto. Questo gol, perché poi mi viene da volerne fare due, perché ormai il gol è un'abitudine al quale mi ci sono ormai adattato e di conseguenza devo farne due. Motoperpetuo torna bene. Non so, mi viene... noi in Toscana ci sono ancora i mulini a vento, i mulini a acqua. Più acqua gli dai e più energia poi producono. E' questo. Noi non siamo nelle condizioni di arrivare oggi e di dire che domani è una partita che si fanno giocare quelli che hanno giocato poco. No, si fanno giocare quelli che vincono, quelli che portano a casa la vittoria. Se no, non gioca nessuno. E se non ci danno questa sensazione di certezza i giocatori domani, non giocano. Noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di fare serietà assoluta di ogni secondo della nostra vita per la Roma. Perché abbiamo questo bisogno, abbiamo questo bisogno. La Roma per crescere deve fare questo. E siamo sulla strada buona per quello che si è visto ultimamente.